Paolo Verniano di Autonomia Dinamica, un commento sui primi dati che stanno arrivando per queste elezioni? Preoccupante sicuramente lo sfondamento della Lega, della coalizione di destra al 40%. Aspettiamo i dati perché non è finita, nel senso che abbiamo visto che i primi seggi sono quelli del Trentino del Sud dove sicuramente la Lega era molto più forte, stiamo aspettando le valli più radicate territorialmente diciamo meno venetizzate da questo punto di vista, speriamo che ritorni sotto il 40% perché per noi la maggioranza assoluta e bulgara della Lega può creare dei problemi a Trentino. In Alto Adige un ex esponente del Movimento 5 Stelle ha avuto dei risultati notevoli. Paul, lo conosco personalmente, ha fatto un'operazione politica magistrale, devo fargli i miei complimenti personali, glielo ho già fatti personalmente, è partito un attimo prima di noi, è riuscito a far capire meglio alla popolazione il suo intento, è riuscito a riportare una fetta di elettorato tedesco a votare e quindi ha arginato decisamente la Lega che seppur ha sfondato ma era prevedibile a Bolzano, chiaramente nelle altre valli, nelle valli e tra l'elettorato tedesco non ha fatto niente.